Rendere il porto di Trani il luogo della passeggiata elegante della città, arricchendo la zona di servizi, ad iniziare dai parcheggi ed incentivando la ripresa di attività prima di smesse. Leo Amoruso e Marina Nenna, ricandidati al consiglio comunale nella lista CON, dopo cinque anni di lavoro nella maggioranza del sindaco Bottaro, intendono dare un nuovo impulso sia al commercio che al turismo, veri e propri motori dell'economia locale, rendendo ancora più attrattiva una delle vetrine più belle di Puglia. Noi oggi abbiamo sviluppato un'idea, stiamo sviluppando anzi un'idea di porto correlata all'idea nuova di Lungomare perché inevitabilmente sono due facce della stessa medaglia. Oggi abbiamo ripristinato dopo finalmente cinque anni di lavoro abbiamo ripristinato una serie di attività su Lungomare che erano dismesse o non esistevano proprio. Si è creata finalmente una movida, diciamo comunque un movimento legato alla ristorazione e ai bar molto importanti su Lungomare che sta facendo sì che finalmente il porto possa vedere quella sua naturale configurazione che forse è meno caotica di quella che si sta sviluppando su Lungomare ma più a mo' di chicca, quindi più legata a quella che è il concetto di porto naturale di Trani. Mi piace perché molti locali si sono diciamo già naturalmente proiettati verso questo futuro e quindi stanno già lavorando in questa direzione. Molti hanno dismesso quell'idea diciamo di American Bar e si stanno trasformando in ristorantino o comunque in situazione che io ritengo personalmente ma un po' tutti noi ritengo personalmente più adeguata a quella che è la struttura e anche l'idea del porto di Trani. Nessun libro dei sogni nel programma di Marina Nenna, assessore alle attività produttive durante l'ultimo anno del mandato di Bottaro. I progetti per la rivalutazione del porto, spiega i nostri microfoni, sono già finanziati e pronti a partire. Abbiamo partecipato al secondo bando del distretto urbano del commercio per il quale il comune di Trani ha messo il 50 mila euro di compartecipazione, l'80% lo mette la regione e quindi abbiamo un totale di 250 mila euro di finanziamento già arrivato nelle nostre casse, col quale abbiamo deciso di finanziare dei progetti di micro rigenerazione urbana che verranno realizzati proprio qui sul porto, tra i quali dei bel vedere splendidi e un teatro mobile alla terra rossa, quella che viene definita terra rossa, a me piace chiamarla così, in realtà è il Molo Santa Lucia, però per noi e per i Trani si è sempre comunque la terra rossa. Provare a dare al porto che dovrebbe essere di tutto il distretto urbano del commercio, il vero salotto della città, innanzitutto una funzionalizzazione di alcuni spazi e poi allo stesso tempo sapete benissimo, per chi non lo sa, lo ripetiamo ancora, che si sta procedendo con il dragaggio del porto, c'è un focus acceso sulla darsena comunale, si sta ragionando sul suo futuro, è chiaro che il prossimo obiettivo è sicuramente quello di dotare anche di parcheggi questa zona, proprio per renderla completamente e totalmente abitabile da parte dei cittadini. Nodo cruciale per lo sviluppo delle attività produttive che si affacciano sul porto è la programmazione della zona a traffico limitato che molti commercianti chiedono di poter riconfigurare. Fanno bene alcune volte i commercianti a lamentarsi della ZTL, non perché la ZTL non sia un'opportunità, io sono uno streno difensore della ZTL, ma perché effettivamente se non è corredata da servizi, quali appunto dei parcheggi idonei, è chiaro che ovviamente poi diventa un problema, perché ovviamente trovare parcheggio e poi venire qui diventa complicato. Dobbiamo contemperare le due esigenze, cioè quella di avere un porto il più possibile ad uso dei pedoni e quella comunque di non svilire le aspettative degli imprenditori del porto, quindi stiamo cercando di trovare degli orari in cui far coincidere due cose, infatti in questo momento il porto è ancora aperto, tra un po' sarà chiuso perché avremo, essendo domenica, sicuramente un passeggio più importante e cercheremo di accontentare le due esigenze.